Siete pronti per il grande spettacolo? Siete pronti a far sentire tutto il vostro tifo? Benvenuti appassionati e non di ginnastica ritmica in diretta dal Mediolanum Forum di Astago per la tappa finale del circuito di World Cup di ginnastica ritmica Milano 2023. Un saluto da me Ilaria Brugnotti e come da tradizione sono affiancata in postazione e commento da una vera e propria istituzione del mondo della ginnastica. Campionessa del mondo, medaglia di bronzo a Londra 2012, giudice internazionale, la nostra Marta Pagnini. Ciao Ilaria e benvenuti a tutti, felicissime di essere qui a raccontarvi questa grande gara. Avete visto quanto è pubblico, è veramente un palazzetto pieno, è stupendo, facciamo quasi fatica a parlare. e a sentirci a vicenda. Davvero tantissimo il tifo per le nostre ginnaste e non solo, un tifo sportivo, l'abbiamo visto in questi giorni Ilaria. Un tifo sportivo, che cosa vedremo oggi per chi non dovesse conoscere questo sport? Tutte le finali individuali, cioè cerchio, palla, clavette e nasco e poi le due finali dell'esercizio a squadra con i cinque cerchi e con l'attrezzo misto, due palle e tre nastri. Assolutamente, davvero una gara ricca di emozioni perché le nostre ginnaste ieri hanno fatto molto molto bene. La squadra italiana, la squadra delle farfalle ha vinto l'oro nel concorso generale. Sofia Raffaelli, seconda per un soffio, anche lei nel concorso generale individuale e poi ha ricevuto anche un bellissimo titolo di campionessa della World Cup Series. Significa che avremo modo poi di raccontarlo nel corso della nostra telecronica. Adesso sono state presentate le otto finaliste di questa prima finale. Naturalmente in tutte queste finali la nostra Sofia Raffaelli, che oltretutto è la campionessa del mondo in carica. Esattamente, tra l'altro ieri appunto a vincere l'oro nel concorso individuale è stata la ginnasta Daria Varfolomev della Germania che è proprio la vice campionessa del mondo. Quindi una sfida tra titani davvero, cercheremo. Ecco noi otto finaliste, provengono un po' da tutti i paesi, in questo caso europei, ma qui veramente ci sono oltre 41 nazioni, davvero tantissime, tantissime ginnaste provenienti da tutto il mondo. E queste sono le migliori otto, cioè nella gara di ieri e dell'altro ieri, le migliori otto, che apprezzo cerchio in questo caso, hanno avuto accesso alla gara di oggi, che è riservata solo alle migliori. Allora qualche secondo ancora di attesa, perché stanno presentando la giuria, perché naturalmente un esercizio di ginnastica ritmica ha un corpo giudicante. Assolutamente, le giudici sono molte e vengono sorteggiate. Oggi ci saranno delle giudici neutrali, quindi nessuna giudice con la bandiera delle ginnaste partecipanti. Ed ecco la prima ginnasta inquadrata, questa è la zona in cui si preparano ad entrare in pedana le ginnaste. Questa giovanissima atleta che ha già fatto tanto parlare di sé, si chiama Stigliana Nikolova, dalla Bulgaria, ed è una delle ginnaste papabili per il podio, diciamo così. Assolutamente, ha vinto tanto quest'anno, è piccolina ma ha davvero una grandissima energia. Sì, ci ottenne, è inquadrato in questo momento dalle nostre telecamere il presidente di Feder Ginnastica, Cavalier Gerardo Tecchi, sono davvero tantissime le autorità presenti qui al Mediolanum Forum di Assago, e poi il presidente Morinari Vatanabi, il presidente della Federazione Internazionale di Ginnastica. Ci sono un po' tutti per questa grande finale. Sì, davvero, tante autorità, davvero un pubblico numerosissimo. Grande calore per le nostre ginnaste. Davvero un palcoscenico straordinario. La città di Milano finalmente ospita una grande rassegna internazionale. Eccola, annunciata da Fabio Gaggioli, che è la voce della ginnastica, è da sempre presente nei palazzetti a raccontare la ginnastica, anche lui con la sua voce. A questa giovanissima atleta della Bulgaria aspetta proprio il compito di rompere il ghiaccio per questa giornata intensa di finale qui su La7, Siliana Nicolova dalla Bulgaria. Seguiremo l'esercizio in silenzio. Mamma, quasi quasi te lo dico, quasi quasi all'infinito, ti dico mamma. L'amore che muove il sole mediterranea. Mamma, l'amore che mi fa l'amore. Tutta casa, mamma. No, brutto errore. Merdita da un punto. Mamma, l'amore che mi fa l'amore. Peccato Marta, vogliamo subito spiegare cosa è successo. Sì, un brutto errore, una perdita in occasione di un movimento che lei è solita fare molto bene, però la tensione è tantissima. Tanta emozione anche davvero, il palazzetto è pieno, il Mediolanum Forum di Assago è pieno. Ci sono un sacco di tifosi appassionati di ginnastica ritmica. Questa tra l'altro è una ginnasta molto apprezzata, insomma, è molto seguita dalle giovani. Dalle giovani, è molto amata dalle giovani. Purtroppo può capitare quando la tensione è molta e soprattutto quando si entra e si vede improvvisamente tutte queste persone che ti applaudono e ti aspettano. Ecco, vediamo qualche rallenti. Bellissimo questo pivot, anche se è leggermente sbilanciato sul finale. Adesso vediamo invece qui un salto con un maneggio dell'attrezzo molto difficile. Questi sono dei rotolamenti del cerchio. Ne vedremo tantissimi, proprio perché il rotolamento è uno degli elementi caratteristici del cerchio. Bellissima questa difficoltà, super in asse. Questo invece è un rischio dove poi lei ha perso il cerchio, doveva entrare dentro al cerchio con le gambe, ma purtroppo l'ha colpito e il cerchio è rotolato velocemente verso il bordo della pedana. Per fortuna non è uscito dalla pedana, altrimenti ci sarebbe stata una penalità ancora maggiore. Ecco questo salto, anche questo ben eseguito. Vedete qui un altro rischio dove lei lancia senza l'aiuto delle mani e fa delle rotazioni sotto al volo dell'attrezzo. Ci sono i famosi rischi e tanti rotolamenti. Vedete anche questo è un altro rotolamento, hanno un valore molto alto. E questa è la zona del Kiss and Cry, il divano dove le ginnastiche con le loro allenatrici attendono il punteggio dalla giuria e insomma oltretutto in questo momento anche si intrattengono con il pubblico, è bellissimo. 32-250 il punteggio di Stigliana Nikolova. Questo è un po' il punto di riferimento, essendo il primo esercizio di questa prima finale appunto con il cerchio. Sì esatto, tenete presente che quella perdita le ha costata più di un punto. Quindi il punteggio sarebbe stato sicuramente maggiore senza quell'errore. Seconda protagonista di questa finale al cerchio Fanny Pignitzki dall'Ungheria. Tra l'altro una ginnasta notte in Italia perché gareggia proprio per la forza e coraggio società di Milano. Quindi tanto tifo per lei. Partio Fanny Pignitzki Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Altre invece che controllano che la parte artistica sia ben sviluppata e applicano delle penalità qualora non lo sia. Per chi si fosse collegato adesso e non conoscesse questo sport, lo vedesse per la prima volta, la ginnastica ritmica è un tutt'uno con la musica. Gli esercizi con i piccoli attrezzi della ginnastica sono costruiti sulla musica che è uno degli elementi fondamentali di questa disciplina. Sì esatto e poi dopo la parte artistica ci sono anche delle giudici che invece si occupano dei falli tecnici, quindi tutti quelli che possono essere le sbavature e le alterazioni da un'esecuzione perfetta. Qui vediamo alcuni replay, cerchiamo di parlarne insieme. Questo è un rischio con le tre infilate, tre tour plongé, lo fanno molte ginnaste. Questo è invece un altro rischio dove vedete lei ha lanciato l'attrezzo, ha eseguito almeno due rotazioni sotto il volo e poi ha ripreso. Questa è una difficoltà di pivot. La vedremo spesso. Ogni rotazione di queste vale due decimi, quindi potete fare anche a casa il calcolo di quanto può valere una di queste difficoltà. Qui un altro salto con subito dopo un rischio e la ripresa finale, molto complessa, che va a chiudere la storia. Ecco anche questo particolare del body molto ricamato, avremo modo anche di parlarne, no? È tutto studiato, 32,550 intanto per Fagni Pinitschi, soddisfatta la ginnasta ungherese, davvero un esercizio molto particolare, anche studiato sulla musica, una musica davvero particolare. Si, si distingue dalle altre, assolutamente. Dalla Spagna questa volta Anna Alba Bautista, la terza protagonista di questa finale, in questo caso indossa un accademico, cioè un costume completo. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 e tutti. a tutti. a tutti. a tutti. l'esercizio. a tutti. a tutti. a tutti. per... per Sofia, a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. e... e... a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. 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 e... a tutti. e... ... tutti. ... sono... a tutti. ... 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 Gira, molto gira, allo spazio senza fine, con gli amori appena nati, e gli amori già finiti, una gioia e col dolore, gente come me. Per il fatto che era la mia vita, con gli amori già finiti, un po' di corta, e gli amori già finiti, una gioia e coltino, e gli amori già finiti, una gioia e coltino. Grazie a tutti Che peccato Che peccato, mannaggia Sofia Ci ha dimostrato di essere umana con questi errori Milena, ci racconti cosa è successo Vorrei dire brava fino alla fine Ma mancava veramente 15-20 secondi Ha fatto due gravi errori È stata brava appunto fino all'ultima diagonale Purtroppo poi in un rischio di tre vele di seguito Che è uno dei rischi che vale di più E poi appunto nel finale Che è un veramente rotolamento E la penalità di finire senza trecce è alta Vabbè è umana Sì, lo possiamo dire Non siamo abituati a vederla sbagliare Tanto che esegue Raffaele Questo è l'elemento che lei ha inventato Ecco qua La ripresa iniziale è molto difficile Poi il tutto condito davvero da Un'espressività importante di Sofia Ecco qui il primo rischio Ha seguito molto bene questo momento espressivo Ha comunque altre due finali Quindi non è finita qui la gara E poi ci ricordiamo che ha vinto l'oro nella finale al cerchio Insomma ecco qui anche l'ultimo momento La ripresa e poi qui il rotolamento Che purtroppo non è scappato E poi in realtà sia un passaggio difficile Ma non complesso magari quanto gli altri È stato veramente un momento Assolutamente Assolutamente Non pienamente soddisfatta Sofia Ma con un sorriso Adesso si deve tranquillizzare E andare avanti Grazie a tutto perché Insomma Allora c'è il ricorso per Però Milena ce l'aveva detto Che Stiliana poteva prendere di più Mi aspettavo anche io un po' di più Milena è un futuro da giudice chiaramente Come no fammi compagnia Attenzione appunto Marta ha bisogno di un supporto Cosa significa ricorso Marta? Significa che se la ginnasta Ovviamente anche l'allenatrice Non sono d'accordo sul punteggio Possono presentare ricorso E quindi la giuria deve riguardare l'esercizio Rivalutarlo E decidere se accogliere il ricorso E cambiare il punteggio Oppure se farlo rimanere invariato E quindi rifiutarlo E adesso la giuria si deve mettere lì A riguardare tutto l'esercizio Rigiudicarlo E poi ci faranno sapere Qual è la decisione finale Intanto inquadrati due presidenti Presidente di Fiderio Ginnastica Gerardo Tecchi Il presidente della Federazione Internazionale di Ginnastica Il presidente Morinari Vatanave Due istituzioni Sono stati qua veramente Tre giorni di gara Sempre presenti Accanto alla pedana di questa finalissima Di Coppa del Mondo Non è ancora uscito neanche il punteggio di Sofia Ecco la Una delle nostre ufficiali di gara Manuel Agnolucci Con Isabella Savade Legato tecnico della Federazione Internazionale E attenzione 30 e 200 Il punteggio di Sofia Purtroppo Il penultimo punteggio in questo momento Ma purtroppo l'abbiamo detto Gli errori ci sono stati E il risultato in questo caso Non paga ma è Due gradi errori purtroppo Ed ecco Daria Varfolomev Ultima protagonista di questa finale Che va a chiudere Vincitrice Lo ripetiamo del concorso generale di ieri Alla esperta il compito Di chiudere in bellezza Speriamo questa finalissima alla palla Alla esperanza di chiudere in bellezza I love you, but I gotta stay My mom's got me on my feet, it's not making me, it's not making me I don't know what this is, but you're not, you're like you knew you would I don't know what you do, but you're doing well I'm learning your skills I don't know what you do, but you're not, you're not, you're not I don't know what you do, but you're not, you're not, you're not You're not, you're not, you're not I don't know what you do, but this is not me Ecco, stavo pensando, Dara Varfora Lomev, Stiliana Nicolova, due campionese Una va a una velocità, una va totalmente a una alta velocità Lei ha uno stile molto morbido, molto più lento, Stiliana velocissima E però anche un po' il bello della ginnasta carismica, nel senso vari stili, almeno ogni ginnasta esprime anche la propria personalità e quindi tanti modi di fare ginnastica però accomunati dalla stessa passione, vero Milena? Eh sì, ognuna ha i suoi pregi, chi sa, tipo Coriana, coi giri, chi l'eleganza, chi la velocità, quindi ognuno ha il suo trazzo distintivo. E ognuno dietro a questo backdrop quando si prepara per entrare in pedana fa cose differenti, giusto? Quindi si prepara in maniera diversa. Esatto, esatto, come vi ho detto prima, chi si scalda prima, chi dopo. Allora dai nostri schermi vediamo che il ricorso di Steliana Nikolova è stato accolto, il punteggio da 33,650 è diventato 34,050 quindi è stato aumentato. Detto questo non supera comunque la tornazionale Moriana Kalein che in questo momento occupa la prima posizione provvisoria con 34,650. Vediamo se Daria sarà in grado di superare questo punteggio e quindi di conquistare la medaglia d'oro. Però l'avevo detto il punteggio secondo me. Milena è un futuro davvero da giudice, cerca di pensarci. E' un po' di farlo. Ecco anche Fabio Peggioli, la voce della ginnastica. No, no, no. Come diceva che appunto l'integgio di Steliana Nikolova è stato qualificato. E' stato bellissimi dei di questi passi di danza di Daria Bartolomev, alcuni rotolamenti che lei esegue molto lentamente, però si apprezzano molto a livello di tecnica perché il rotolamento è un elemento difficile. Si vuole tanto per impararlo, quando siamo piccoli è tecnica, è tecnica. Attenzione, è uscito il punteggio di Daria per lei. Medaglia d'oro 35-850. Quindi balza davanti a Borjana Kalein. Medaglia d'argento, terza posizione per Steliana Nikolova. Davvero meritatissimo questo. Sì, 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 un bellissimo oro per l'aria. Che bella sfide, siete d'accordo? Una bella gara, assolutamente. Davvero una bella gara. Si conclude quindi anche la finale alla palla. Noi ringraziamo Milena Baldassari, ma il tuo compito non è finito. Ti concediamo un po' di pausa, ma poi tornerai nel corso della nostra telecronica. Mi vado a prendere un caffetto. Brava, eccola quindi la classifica della palla. Daria Bartolomev, 35-850 medaglia d'oro, 34-650 medaglia d'argento per Borjana Kalein. e Steliana Nikolova, terzo gradino del podio, 34-050. Ecco la classifica. Poi rivedremo la prima finale invece, poi vi racconteremo della squadra, con l'esercizio ai cinque cerchi. Dopodiché ritorneremo con le finali individuali e concluderemo in grande bellezza con l'ultimo esercizio della squadra. Quindi, è vero, grazie a Milena che tornerà per avere un compito questo e poi dopo avremo in prostazione anche Viola Sella, che è una delle protagoniste. Noi ci prendiamo una piccola pausa su queste immagini e torniamo subito qui in diretta tra qualche istante dal Mediolanum Forum di Assago. Rieccoci nuovamente in diretta dal Mediolanum Forum di Assago per questa ultima giornata della finalissima della Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica di Milano 20-23. Come sempre al mio fianco, Marta Pagnini. Siamo, diciamo, la prima parte di gara abbondante superata. Ricordiamo medaglia d'oro conquistata da Sofia Raffaelli nella finale al cerchio e adesso spazio per la squadra, perché la ginnastica ritmica non è solo uno sport a livello individuale, ma anche uno sport di squadra e ad aprire questa prima finale le nostre straordinarie farfalle. Italia scenderà in pedana, quindi boato assicurato. Ricordiamo soprattutto Italia che ha conquistato la medaglia d'oro nel concorso generale. Sì, davvero, in questi due giorni di concorso generale la squadra ha fatto una gara strepitosa conquistando un punteggio altissimo in occasione dei cinque cerchi, quindi questo è proprio un esercizio che ci ha fatto tanto sognare venerdì e lo rivediamo adesso, proprio in apertura di questa finale. Eccole le nostre ragazze allenate da Emanuela Maccarani nella zona del warm-up. Ultimi, ultimi suggerimenti da parte dell'allenatrice, tu che sei stata capitana della squadra, Marta, rivivi questi momenti. Assolutamente, questi momenti di tensione. Calma, calma, dice Emanuela alle ragazze. In effetti è in un certo timore positivo, naturalmente, questo straordinario pubblico presente qui a Milano, davvero. Davvero tantissima, tantissima emozione, il pubblico la sente, fa il tanto tifo ed è bellissimo da sentire quel capitano Alessia Maurelli che dice che dà il via per entrare dentro la pedana e mettersi in posa iniziale. Le guardiamo in silenzio. Le guardiamo in silenzio. Le guardiamo in silenzio. Le guardiamo in silenzio. Grazie a tutti. 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 E poi ragazzi anche il body a tema con la musica sulle note di Michael Jackson, veramente tutto studiato in maniera eccezionale. E' un salto nel cerchio, una particolarità che è stata anche originalità qualche anno fa di questa squadra. Le vogliamo nominare Marta? Assolutamente, da sinistra Alessia Russo, 37, che punteggio per le nostre ragazze, meraviglioso. Assolutamente, bravissime ragazze, bravi, bravi, dicevamo Alessia Maurelli, poi Daniela Mugurean, Agnese Duranti e Laura Paris. Attenzione alle rivali, attenzione, attenzione alle rivali perché non sarà per niente facile, credo che sia il punteggio più alto dato in questo attrezzo veramente in quest'anno. Bravi ragazze, adesso è la volta subito di un'altra squadra perché la gara procede velocissima. Assolutamente, otto squadre, ad aprire le danze l'Italia con un straordinario punteggio, 37, adesso è la volta della Polonia. Assolutamente, otto squadre, ad aprire le danze l'Italia con un'altra squadra. Assolutamente, otto squadra. Assolutamente. Assolutamente, otto squadra. Assolutamente, otto squadra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Let it all out, these are the things I can do with them, come on, talking to you. Thank 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 you. in asta lancia, esegue delle rotazioni sotto l'attrezzo e ripiende il proprio attrezzo massimo uno di questi momenti durante un esercizio di squadra sentimi Marta, ritorniamo su questo punteggio meraviglioso 37 tondo tondo della nostra Italia con un valore di 20 e 40 del D, davvero un D davvero altissimo, sicuramente anche più alto di quello in qualifica che già era stato un punteggio importante, anche l'artistico e l'esecuzione sono davvero ottimi e intanto 33-450 è il punteggio della Polonia ma adesso attenzione perché scende in pedana una delle squadre possibili, nostra rivale, seconda nel concorso generale di ieri quindi guardiamo bene Sì, ce le guardiamo bene, ieri tra l'altro la gara finì con un pari merito proprio fra noi la squadra italiana e quella di Israele, è sciolto poi con un maggior punteggio dell'Italia sulle esecuzioni e quindi una squadra sicuramente da tenere d'occhio questa grazie 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì, sì. La collaborazione invece come ad esempio questa, tutte le ginnaste hanno un ruolo diverso, magari a coppie, non necessariamente ci sono dei lanci alti. Ecco, questa per esempio è una collaborazione, vedete, con un sollevamento di una ginnasta che ha lanciato il proprio attrezzo. Adesso ruota e riprende quello di una compagna. Un punteggio, davvero, un punteggio, davvero, non finisco mai di vedere punteggi. Un punteggi altissimi, veramente. Un po' di delusione da parte del pubblico. Sì, abbiamo sentito, sì, abbiamo sentito da parte del pubblico, su queste immagini noi ci prendiamo una piccola pausa e poi ritorniamo qui per la finale ancora con i cinque cerchi dalla Coppa del Mondo di Milano 2023. In diretta nuovamente dal Mediolanum Forum di Assago, finale cinque cerchi, la prima delle due finali del concorso per le squadre. Questa inquadrata è la Germania che ha appena concluso il suo esercizio. Purtroppo qualche errore l'abbiamo visto adesso, per esempio, una perdita dell'attrezzo e dopo aver perso l'attrezzo la ginnasta non ha eseguito l'equilibrio. Significa che quattro l'hanno fatto e uno no. Questo azzera la difficoltà per tutte, è proprio questo il bello e il brutto della squadra. Questo invece è uno scambio, vedete, ripreso fuori dal campo visivo, attraversando il cerchio. Un rotolamento, obbligatorio presentarlo all'interno dell'esercizio, in successione. Abbiamo detto l'importanza di avere anche il lavoro in successione all'interno del proprio esercizio. Intanto ricorso che vi avevamo annunciato prima della nostra pausa per quanto riguarda il punteggio della Polonia. Il punteggio non è stato cambiato, quindi il punteggio rimane invariato 33-450. Ricordiamo che questa classifica provvisoria della finale specialità ai cinque cerchi è guidata da Israele con 37-550. seguita dalla nostra nazionale 37 tondi, 33-450 alla Polonia e ora è uscito il punteggio della Germania 29-850. Eccolo in sovrimpressione. Sicuramente più basso rispetto a quelli che abbiamo visto finora, penalizzata abbastanza sull'esecuzione. Ricordo che l'esecuzione parte da 10 punti e poi si fanno a sommare, quindi detrarre le varie penalità. E adesso la squadra dell'Ucraina pronta a scendere in pedana. E' una squadra che si è di recente rinnovata, quindi nuove ginnaste. Molto caratteristico di questa squadra l'accademico, quindi il body punto completo con anche la parte delle gambe, molto elegante. E seguiamo. Molto caratteristico di questa squadra. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E basta anche solo una che lo salta e salta per tutte. È complicatissimo il lavoro di squadra, Marta. Tu hai fatto parte della squadra nazionale per tantissimi anni. A parte la sinergia fra le ginnaste, ma il lavoro costante tutti i giorni insieme. È un lavoro davvero di stretta collaborazione non solo tra i membri della squadra ma anche con gli allenatori. Pensate che comunque non si allenano da sole queste ragazze. La squadra è composta solitamente da dieci elementi. Quindi altre quattro, cinque ragazze si allenano in una pedana a fianco alle titolari e provano gli stessi esercizi pronti a subentrare qualora ce ne fosse la necessità. Ecco alcuni momenti dell'esercizio dell'Ucraina. Questo è un salto. Questo invece è uno scambio. Vedete, lanciano e riprendono l'attrezzo di una compagna. Questi sono passi di danza, sia per le individualiste che per la squadra. Sono obbligatori, devono durare otto secondi e devono rispecchiare bene il carattere della musica. Ecco, invece, un lancio multiplo. Vedete, al centro ha lanciato tre cerchi contemporaneamente, di cui uno senza l'aiuto delle mani. Questa collaborazione in cui tre movimenti identici si susseguono è chiamata CC, come tipo di collaborazione. Se siete curiosi potete andare a scaricarvi il codice dei punteggi, è un libro molto lungo, molto ampio, però magari i più curiosi possono cercare di trattare le regole. Esatto, di scaricarsi. Se invece volete rivedervi tutti questi stupendi esercizi che abbiamo trasmesso e stiamo trasmettendo in diretta dal Mediolanum Forum di Astago, potete andare sul sito di La7, la7.it, e trovate una sezione dedicata alla ginnastica ritmica, in particolare alla finale di Coppa del Mondo di Milano 2023. Tutti l'Inca praticamente in tempo reale degli esercizi di queste finali. Intanto 31.700 il punteggio dell'Ucraina, quarto punteggio provvisorio e adesso la volta della Cina. Una squadra molto interessante, Marta. Terza, ieri nel concorso generale, medaglia di bronzo. Sì, davvero una bella squadra. La Cina non ha una tradizione omogenea per quanto riguarda la ginnastica ritmica. Alcuni anni è stata più forte, altri invece è proprio scomparsa dallo scenario internazionale. In questo momento ha una bellissima squadra. Tifosi cinesi presenti con gli spalti e inquadrati prontamente dalla nostra regia. Tifosi cinesi presenti con gli spalti e inquadrati prontamente dalla Cina. Tifosi cinesi presenti con gli spalti. 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 Tifosi cinesi presenti con le corno idee Tifosi cinesi presenti con gli spalti e inquadrati. che brutto recupero fuori pedana che bell'esercizio Elaria, che peccato con l'errore molto inaspettato, si guardano le due allenatrici discutono l'errore, intanto bellissimi i tifosi come hai sottolineato tu prima fuori pedana, una ginnasta è uscita per andare a recuperare un attrezzo ogni volta che una ginnasta esce fuori pedana la giudice di linea attribuisce tre decimi di penalità sia per la ginnasta e eventualmente dovesse uscire anche l'attrezzo tre decimi anche per l'attrezzo che si sommano quindi davvero un grosso impatto però l'attrezzo non è caduto, per quanto mi riguarda almeno da qui non l'ho visto cadere quindi diciamo che il danno è contenuto rispetto a come poteva essere quindi brava la ginnasta che comunque ha recuperato le due allenatrici si sono tenute per mano per tutto e lo svolgimento dell'esercizio era successo anche in occasione delle due giornate precedenti pensate sono due medaglie olimpiche perché una è una medaglia olimpica cinese a Pechino 2008 l'altra è una tre volte medaglia ai giochi olimpici della squadra russa Anastasia Blisnyuk insomma quindi due tecniche d'eccezione per questa squadra cinese e diciamo che questa ginnasta russa io la associo a te perché gareggiava nei tuoi stessi anni e anche lui ha continuato anche quando poi io l'ho lasciato una grande esperienza senz'altro ecco alcuni momenti, vedete molto in stile l'esercizio in tutte le sue parti è curata tantissimo la parte artistica e le ginnaste le interpretano anche molto bene ecco qui alcune collaborazioni, vedete classici movimenti in successione ecco un lancio multiplo, eccolo qua il recupero fuori pedana sì, credo che il danno in tutto possa essere un mezzo punto di traiettoria più lo 0.30 dell'uscita di pedana della ginnasta credo non più di così comunque ha un impatto sicuramente sul punteggio bellissimo questo finale, molto particolare eccole qua il gesto sì sì, assolutamente dall'altro vedo la mascotta delle Olimpiadi di Pechino in mano all'allenatrice 35 e 100, terza posizione provvisoria per la Cina peccato davvero per quell'errore quanto possono aver perso? sì, circa un punto credo e poi sicuramente non sono state pulitissime a livello di esecuzione quindi credo che avrebbero potuto sicuramente ottenere di più e adesso è la volta del Giappone rimaniamo ad oriente sì, guardavo anche il valore delle difficoltà la Cina ha circa un punto in meno di Israele e anche quasi, sì, 7 decimi rispetto alla nostra squadra italiana quindi ecco il Giappone intanto entra in pedana ci abbiamo verso la fine di questa finale ai Cinque Cerchi grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un buon esercizio però con qualche recupero e qualche imprecisione. La squadra del Giappone era una squadra molto forte, lo scorso quadrienne infatti nell'Olimpiade in casa ci si aspettava sicuramente un grande risultato da parte loro che poi non è arrivato a causa di tanti errori durante quella gara. Ogni una di queste squadre ha alle spalle una grandissima preparazione, durante gli allenamenti non si provano solo gli esercizi di gara ma si fa una lunga parte di riscaldamento e anche una sessione quotidiana di danza classica proprio di sbarra perché costituisce proprio la nostra base della ginnastica, della danza classica. Sono lunghissimi quindi gli allenamenti racchiudono davvero tante tante componenti. Abbracci tra atlete e allenatrici ricordiamo che questa finale per il momento è guidata da Israele con 37, 550 seguita dalla nostra Italia con 37, terza posizione provvisoria per la Cina con 35, 100. Quando in pedana deve scendere ancora l'ultima squadra che è una squadra molto forte, la squadra della Bulgaria. Tantissimi errori per la Bulgaria in questi due giorni quindi vediamo se oggi riusciranno un po' a riscattarsi. Devo dire che tutto quest'anno purtroppo non ne ho viste gareggiare in maniera pulita e insomma sicuramente sapranno, sono una squadra dell'altissimo livello quindi sono sicura che sapranno lavorare sui punti deboli. Anche perché è una squadra, insomma la squadra della Bulgaria è la campionese del mondo in carica e anche i campioni olimpici in carica con una bella tradizione quella della Bulgaria. Sta arrivando il punteggio del Giappone. 32, 350 il punteggio del Giappone. Quinta posizione provvisoria e l'avevamo annunciato poco fa e adesso è la volta dell'ultima squadra. la squadra della Bulgaria dopodiché classifica definitiva di questa prima finale a squadra e premiazioni delle prime finali che vi abbiamo raccontato fino ad ora. Vedete che ogni squadra entra in pedana da un punto diverso, quello che è più congeniale poi per eseguire la pose iniziale in breve tempo. Grazie mille. Passare show a tutti. Grazie mille. 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 Grazie a tutti. 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 Ecco altre collaborazioni dove la ginnasta entra dentro al cerchio. Ecco qui il recupero. È un lancio sbagliato che la ginnasta ha recuperato. Non sembra essere caduto a terra al cerchio, non ne sono certa, però se fosse caduto a terra il danno sarebbe molto maggiore. Solo la traiettoria invece sarebbe solo 1-0-50, anche qui non troppo preciso questo momento dell'esercizio. Qualche incertezza, insomma, ancora qualcosa da mettere a posto sicuramente. Il pubblico è il pubblico è instancabile, Marta, cioè questa è veramente una maratona perché dalle due siamo neanche a metà gara, ci saranno le premiazioni e veramente... Eccola la classifica. Perché dopo le rivedremo con l'attrezzo misto. Esatto, attrezzo misto, ma soprattutto, Marta, mancano ancora due attrezzi anche per le nostre individualiste. Clavette e Nastro, dove rivedremo Sofia Raffaele fra le protagoniste. Nastro, soprattutto, è un attrezzo caratteristico della ginnastica ritmica, considerato un po' il simbolo della nostra disciplina, quindi un attrezzo davvero un piacere vederlo. È un attrezzo che si segue molto bene anche dalla televisione, quindi da casa. È un attrezzo televisivo, verrebbe da dire. Molto, molto. Al contrario, per esempio, della fune, che è stata proprio rimossa dal programma individuale e internazionale perché è considerata poco televisiva. Ma è ancora un attrezzo della ginnastica ritmica, tant'è che la nostra squadra junior, che l'ha avuta nel programma, aveva l'esercizio proprio con le cinque funi, oltre a quello con le cinque palle, in occasione degli europei e dei mondiali che quest'anno hanno disputato. Tra l'altro, europei, ricordiamo, la squadra junior ha vinto una bellissima medaglia di pronto alle cinque funi. E adesso è il momento delle premiazioni di queste prime tre finali. Verranno premiate le ginastiche della finale al cerchio e della finale alla palla. E naturalmente a vincere l'oro nella prima di queste finali, la finale al cerchio. La nostra Sofia Raffaele inquadrate le autorità pronti a premiare queste straordinarie atlete che però non devono assolutamente allentare la tensione perché poi saranno chiamate a disputare anche le altre due finali. E allora questo il podio del finale al cerchio. Medaglia di bronzo terza classificata alla ginnasta tedesca Daria Varfolomev. Ieri vincitrice del concorso generale. Medaglia d'argento. Questa volta va all'Ucraina. Ginnasta molto nota qui in Italia. Vittoria Anno Prienco. Lo sentite anche dal tifo conosciutissima dai tanti anni che gareggia con Italia come ginnasta straniera. Straniera e molto molto amata dai nostri fan e naturalmente la vincitrice di questa prima finale, la finale al cerchio. Aspettiamo il boato. E chi sarà mai Marta? Eccola, ascoltiamo. Voglio ascoltare il pubblico. Ve lo facciamo ascoltare anche voi a casa. Ecco Fabio Caggioli che l'annuncia. Assordante. Sì, bellissima questa partecipazione. Tutti qui per lei, per Sofia. Che tanto ha vinto in questi anni, davvero. Ha scritto proprio una pagina di storia della ginnastica ritmica italiana e internazionale. Perché no? Ecco le autorità che vanno a premiare le ginnaste. Presidente della federazione ginnastica d'Italia, Gerardo Tecchi. Presidente Gerardo Tecchi. Premia la Sofia. Mentre Walter Peroni, vicepresidente della federazione ginnastica, premia la seconda classificata. E Morinari Watanabe, presidente della federazione internazionale di ginnastica, premia il bronzo. Quindi Daria Varcolomov della Germania. Sofì, sei mitica. E poi la cura con cui vengono scritti questi cartelli ci sono tantissimi. Alcuni vengono regalati poi alle ginnaste, li conservano con grande orgoglio. Anch'io ne ho qualcuno a casa. E adesso naturalmente noi ascoltiamo il rigoroso silenzio, lino di Mameli, lino italiano. In omaggio di questa bellissima medaglia d'oro conquistata dalla nostra Sofia Raffaelli. Anch'io ne ho qualcuno a casa. 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 L'Italia chiamò sì urla al pubblico. Sofia saluta i suoi cosi. E su queste straordinarie immagini noi andiamo in pubblicità e torniamo subito qui in diretta dal Mediolanum Forum di Assago. Queste sono le immagini della premiazione della finale individuale alla palla. non c'è la nostra Sofia Raffaelli perché purtroppo ha commesso due gravi errori e quindi è rimasta giù dal podio meritata medaglia d'oro per la ginnasta tedesca Daria Varfolomev che è ben accompagnata dalle due ginnaste bulgare. La medaglia d'argento è la medaglia d'argento Borjana Karen e la connazionale Stigliana Nikolova medaglia di bronzo. Un bel podio di ginnaste di alto calibro davvero stupende. Molto bello vederle qua in attesa di sentire l'inno tedesco proprio in onore di Daria Varfolomev. Il pubblico si alza in piedi in silenzio e in rispetto. Il pubblico si alza in piedi in silenzio e in rispetto. Il pubblico si alza in piedi in silenzio e in rispetto. Non è inquadrata, c'è una signora con una bandiera tedesca accanto a noi che è naturalmente tifosa. È bello, bello vedere che sono venuti veramente da tutte le parti. Sì, poi il tifo è davvero sportivo. È un piacere vedere tutto questo calore nei confronti di tutte queste atlete che al di là della rivalità in pedana sono tutte le grandi amiche. Unate anche di questa grande passione per la ginnastica ritmica. Spero che chi ci sta seguendo qui in diretta sulla 7 possa apprezzare questo sport. È uno sport molto televisivo ma soprattutto che richiede davvero un impegno, una dedizione costante che vanno al di là del puro gesto atletico e tecnico. Spero Marta, assolutamente. La ginnastica ritmica è uno sport che davvero fa appassionare. Guardate che bello il Mediolanum Forum con così tanti tifosi appassionati di ginnastica. Dicevo, una grande passione che si sviluppa praticando la ginnastica ma anche guardandola. E quindi si crea davvero un'atmosfera speciale in una competizione come questa. Tutte le ginnaste che vedete, ad esempio, inquadrate in questo momento, che fanno le hostess, che accompagnano le ginnaste in pedana o che accompagnano... Sono magari a loro volta o ginnaste o ex ginnaste. Esatto, accompagnano, dicevo, magari le autorità a premiare le medagliate. Sono tutte ginnaste. Ecco, ad esempio, vediamo anche un ex ginnasta della squadra nazionale. Sono tutte appassionate che poi rimangono... Elena Varallo. Sì, rimangono al fianco della ginnastica ritmica. E adesso la cerimonia di premiazione della finale a squadra, la prima delle due finali, quella ai cinque cerchi, dove le nostre farfalle hanno conquistato uno splendido secondo gradino del podio. Sì, assolutamente, un argento con un punteggio davvero bellissimo, superato per mezzo punto dalla squadra di Israele che anche ha fatto una bellissima prestazione. Ieri invece una medaglia d'oro per le nostre ragazze. Israele a secondo posto. Israele a secondo posto. Questa è un po' anche la legge dello sport. Succede anche questo. Entrano per prime, si posizionano dietro al polio tutte e tre le squadre. Il tempo la premiazione si faceva con i costumi di gara, Milaria oggi invece si fa con la tuta. È inquadrata Eleonora Tagliabue che è una delle ginnaste della seconda squadra della nostra nazionale perché naturalmente non ci sono solo le sei titolari, ma ci sono tutta una rosa di ginnaste che si allenano quotidianamente al centro tecnico di Desio. Esatto, a tal proposito vorrei anche ricordare tutto lo staff. Prima abbiamo menzionato le tre allenatrici. È inquadrata in questo momento Martina Sant'Andrea che è stata un'antraordinaria campionessa, una farfalla eccezionale. Ha smesso da poco ma è rimasta nella ginnastica. Dicevo, tutto lo staff compreso delle coreografie Federica Bagnera, Alessandra Valenti, oltre a Camilla Patriarca, Olga Tiscina e la responsabile Emanuela Maccarani. Assolutamente sì, non ci stancheremo mai di ripetere che c'è dietro un lavoro ed ecco il voato del pubblico per le nostre farfalle. Davvero un lavoro di team straordinario. Esatto, già che ci siamo ricorderei anche le compagne che fanno parte della seconda squadra. L'hai menzionato tu Eleonora Tagliabue, voglio ricordare anche Laura Zambolin, Alessandra Naclerio, Serena Ottaviani e Giulia Segatori. Brava Marta, bisogna ricordarle tutte. Assolutamente perché si allenano tutte insieme tante ore al giorno e domani magari vedremo loro, anzi sicuramente, su questi gradini. Ed ecco invece la squadra medaglia d'oro di questa finale, la squadra di Israele. Salire sul primo gradino del podio. Tutte e tre queste squadre hanno un livello davvero altissimo. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo qui per raccontare le altre finali. In diretta dal Mediolano un forum di Assago. Un forum di Assago stra pieno per queste finali, anzi il gran finale della Coppa del Mondo edizione 2023 qui in diretta da Milano. Intanto c'è venuta a trovare in postazione e commento, cara Marta, un'altra delle protagoniste di questa Coppa del Mondo, la più giovane delle nostre individualiste azzurre. Viola Sella, benvenuta. Oltretutto esordiente in Coppa del Mondo. Lei abita a pochi chilometri da qui a Milano. Quale migliore vetrina per debuttare in Coppa del Mondo? Complimenti Viola, non era facile. Come è stato entrare in pedana e rappresentare i colori dell'Italia nella tua città perché tu gareggi per la Forza e Coraggio di Milano davanti a un pubblico così clamoroso? Non è facile rompere il ghiaccio in una situazione del genere. È stata un'emozione fantastica, mi sono divertita un sacco e essere qui a casa è stato ancora più bello. Classe 2006, Viola, allenata dalla sua mamma, Daniela Vergani. Com'è essere allenati dalla mamma? Raccontaci un po'. Il nostro rapporto è un bellissimo rapporto. Cerchiamo di mantenere il rapporto mamma-figlia a casa e allenatrice ginnata in palestra e questa cosa è molto bella. Ci sosteniamo sempre. Ah bene, questo è molto, molto positivo. Molto bene, si vince molto quando ti porta in pedana. C'è davvero una bella atmosfera tra voi, questo si vede anche da chi da fuori vi guarda. Intanto sentite questa musica incalzante perché qui non stiamo a perdere tempo. La gara continua, c'è la finale alle clavette e lo vedete in sovraimpressione il nome di Sofia Raffaelli, la nostra straordinaria individualista nonché campionessa del mondo in carica. Vincitrice qui in questa giornata di oggi dell'oro alla finale col cerchio, quindi teniamo tutti le dita incrociate. Qual è il tuo attrezzo preferito, Viola? Non ne ho uno preferito, mi piacciono tutti allo stesso modo. Mentre di Sofia, qual è l'attrezzo che ti piace di più, il suo esercizio, di quanto è migliore? Di quest'anno credo proprio le clavette. Ecco, allora l'abbiamo chiamata proprio al momento giusto. Queste sono le otto finaliste, poi sarà la volta dell'ultima finale individuale, quella della Nassar, poi gran finale con l'ultimo esercizio di squadra. Esatto. Diciamo che tu, Viola, le conoscevi già queste grandi ginnaste, perché anche attraverso il campionato di Serie A italiana sicuramente ha avuto modo di conoscere qualcuna di loro, ma ora che le hai vissute e ci hai gareggiato comunque contro, quindi insomma è stata sicuramente una novità. Daria Varfolomev, Stiliana Nicolova, Sofia Raffaeli, che atmosfera si respira dietro? Per la Grecia! Sicuramente allenarsi insieme a loro e gareggiare sulla stessa pedana è un onore ed è stato un grandissimo onore perché sono veramente magnifiche. Queste immagini giungono dal warm up, che è la zona di riscaldamento, diciamo così, dietro alla pedana principale. Adesso ad aprire le danze di questa finale clavette è la greca Panaghiota Litra. Subito una perdita. Subito una perdita. Subito una perdita. Peccato qualche errorino, aveva fatto una gara ieri in qualifica perfetta praticamente, la sua migliore esecuzione possibile. Adesso qualche invece errorino complice magari l'emozione. Qual è l'aspetto più difficile dell'attrezzo delle clavette secondo te Viola? Il fatto che sia doppio sicuramente. Esatto, sì sì, il fatto che sono due, come dire, la concentrazione deve essere doppia. Esatto, oltre a dover utilizzare tantissimo anche la mano sinistra perché in solito un attrezzo si predilige a una mano, invece le clavette essendo due richiedono grande coordinazione. Assolutamente avete notato musica, tema greca e costumino, chi si ispira diciamo all'antica Grecia, è tutto studiato, c'è tutto un lavoro dietro. Tu come li scegli i tuoi body Viola? In realtà i modelli li cerca mia mamma e poi magari chiede aiuto alla stilista che, come direte... E tu non fai qualche variazione? No, io ovviamente dico se mi piace o non mi piace, però... Diciamo che è più la mamma che ci mette lo zampino. Esatto, l'abbiamo scoperta, dopo glielo diciamo a Daniela Vergani. Vediamo qui alcuni replay, un giro fuete, vedete qui è importante che appunto la gamba di terra non si sposti dal punto, invece in questo caso purtroppo a un certo punto lei ha viaggiato e quindi a quel punto la difficoltà si interrompe. 28-950 il punteggio della Grecia, Panachiotta-Litra. E adesso torna in pedana Taknina Ikromova, Uzbekistan, ne avevamo parlato con la tua compagna di nazionale Milena Baldassari, avevamo commentato il suo esercizio alla palla che poi però aveva sbagliato purtroppo. Qualche errore di troppo per lei alla palla, vediamo se si saprà riscattare proprio con le clavette. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I momenti in cui vedevo Viola applaudire e io con lei, altri momenti in cui ci siamo lanciati con qualche sguardo come dire ah mannaggia qua poteva andare meglio. Cosa succede Viola quando un lancio non è perfetto? La ginnasta può decidere di cambiare quello che ha nell'esercizio no? La cosa più importante credo sia cercare di recuperarlo al meglio quindi come dire bisogna per forza cambiare qualcosa se non è perfetto. Esatto cosa che invece bisogna avere un tempismo eccezionale però bisogna scegliere tutti i riflessi prontissimi. Sì e un tempo non si poteva neanche più di tanto fare perché c'erano le fisce no? Quindi c'erano dei fogli con scritto l'esercizio e la giudice controllava che venisse svolto tutto quello che c'era segnato. Adesso invece la giudice ha il foglio bianco e scrive quello che vede. Bello questo cuore che disegna nell'aria questa ginnasta, questo rischio delle tre infilate un po' recuperato però tutto sommato salvato. Ampissimi questi salti davvero un'apertura pazzesca e qui forse c'era qualcosa sotto questo lancio vista un po' incerta e la ripresa esatto di questo rischio che sicuramente non era così semplice. Ecco qui vediamo dei piccoli lanci delle due clavette, hanno tutti un alto valore quindi ne fanno davvero tanti le ginnaste all'interno dei loro esercizi. E questo invece è un giro panché sull'avampiede quindi ha rischiato di appoggiare il tallone ma per fortuna è rimasto alto da terra. E finale. Sorride più soddisfatta rispetto alla finale alla palla. Anche l'espressività va allenata in palestra vero Viola? Sì, sempre perché poi... 33-250 intanto, un ottimo punteggio per la ginnasta uzdeca. Se non l'alleni poi in gara non è la stessa cosa. Esatto, cambia proprio l'energia quando esprimi e sei espressiva invece quando fai l'esercizio con una faccia diciamo più rilassata. E adesso veramente la veterana, probabilmente la ginnasta più... non mi piace dire anziana, come si può dire? La ginnasta... Esperta. Esatto, esatto. E Caterina Vedneva dalla Slovenia, se non ricordo male classe 1994. No. 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 Ah, una brutta perdita! Ah, una brutta perdita! Ah, una brutta perdita! L'abbiamo vista e non è riuscita a realizzare il suo classico pivot in attitude seguito da un salto che solitamente fa sempre in quasi tutti i suoi esercizi, se non in tutti. Ecco la mascotte che la segue, la pedina praticamente. Sì, sì, sì. Assolutamente. Ecco, abbraccio con la sua allenatrice. Quante ripetizioni si fanno in palestra, Viola, prima di andare in gara? Tante, veramente tante, perché si cerca di fare ogni cosa perfettamente. Quindi, un esercizio in una giornata quante volte lo ripeti di solito? Eh, domanda difficile. Dipende dalle giornate. Esatto, dipende dal periodo, però tante volte, soprattutto ogni singolo elemento, oppure i pezzetti dell'esercizio, veramente al millimetro. Al millimetro per automatizzare ogni movimento. Senti, dopo questa Coppa del Mondo, una domanda molto personale, ma ti prendi qualche giorno di vacanza? Non ancora, perché adesso vado in collegiale a fare gruppi A. Ecco, perché queste ginastri hanno anche dei periodi di allenamento insieme, dove appunto hanno la possibilità anche di confrontarsi e di incontrarsi, ginastri da tutta Italia, e quindi c'è anche questo impegno per Viola, insomma. Un po' di mare dopo? Magari. Ha detto un magari con la speranza di... Sì, dai. Ci metteremo una buona parola. 28-650, intanto per Caterina Vedeneva. D'altra parte l'errore c'è stato, assolutamente... Eh sì, l'errore è stato pagato. È stato pagato. E adesso torna in pedana all'Ucraina, Vittoria Onoprienko. Sì, questo suo esercizio molto energico, molto espressivo anche. Un esercizio collaudato anche. Sì. 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 Recupero. Brava. Sì. 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 Anche secondo me le piace molto si vede bello anche questo salto forse un po' interrotta la combinata quindi dal collegamento con l'equilibrio che ha fatto subito dopo bellissimo invece questo giro molto in asse molto preciso. il rischio recuperato guardate si è buttata proprio sulla clavetta letteralmente. Viola abbiamo detto che i body li sceglie la mamma e le musiche invece? Le musiche scegliamo insieme lo stile e poi ce le proponiamo a vicenda. Bene c'è un'ottima collaborazione. Sì sì sì. Una gara che trova la più bella. Ma è giusto così? Bella bella. Assolutamente. 33.050 intanto il punteggio di Vittoria Onoprienko leggermente sotto Takmina Ikromova dell'Uzbekistan ma adesso è la volta di Sofia Raffaele. Sentite il pubblico che incita la nostra Begnamina. Sì Sofia un grandissimo tifo per lei. Come sempre ce la guardiamo in silenzio. Il pui du poumon a mon pèr tu t'en souviens. 5 uno. È un minuto Grazie a tutti. 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 Questo rischio finale invece con una ripresa molto difficile, con una rotazione dal suolo e questo lancio è finale. Guardate l'espressione soddisfatta sul finale dell'esercizio. Un bigliettino. Sono 33,500. Il punteggio di Sofia che balza in testa alla classifica provvisoria. Naturalmente messaggi piovono dagli spalti, peluche. Sì, sì, pazzesco, davvero bellissimo. Pensavo qualche decimo in più nello spettare. Anche io, però non sono un giudice e tu che sei più esperta di me sicuramente, se hai avuto questa impressione. Comunque, la gara è la gara, adesso è la volta di un'altra big di Stigliana Nikolova, Bulgaria, che ha questo body particolare. Avevamo anche fatto una ricerca sul 1729. Esatto, che pare sia un numero portafortuna. Avevamo anche fatto una ricerca sul 1729. Ah, una perdita. Bello, questo giudice. Mamma mia, che grinta e che tecnica questa ginnasta. Purtroppo un errore evidente, una perdita d'attrezzo, però tante anche cose notevoli. Anche nei recuperi è quasi disumana perché riesce a recuperare l'irrecuperabile. È molto veloce questa ginnasta, si muove davvero con una velocità non comune. Viola, Ilaria ti rubo di nuovo il mestiere facendo una domanda a Viola, posso? E fai la domanda a Viola, ci mancherebbe. Viola, secondo me tanti sono curiosi di saperlo, com'è una tua giornata tipo, quando ti alleni, quando vai a scuola. Durante l'anno vado a scuola, mi alleno dalle otto e mezza del mattino fino all'una e mezza più o meno, poi faccio un'ora di pausa e mi alleno fino al pomeriggio, fino alle cinque, cinque e un quarto. E poi faccio scuola privata dalle cinque e mezza alle sette e mezza di sera, con il professore, quindi siamo io e il professore. Bello impegnativo insomma, e poi dovrai fare anche gli esami immagino. Esatto, tutti gli anni devo fare gli esami di donità per passare all'anno successivo. Che cosa stai studiando? Faccio il liceo scientifico sportivo. Complimenti. Davvero impegnativo, quindi è bello anche farlo sapere a casa quanto sforzo e quanta passione c'è anche nel quotidiano. Piange. No, sì, molto tenera questa scena. Sì, ci è rimasta male. Sì, sì. Tu che magari hai avuto modo di conoscere, ho sentito spesso parlare di lei, è una ginnasta molto grintosa, insomma, competitiva. È una di quelle a cui a tutti un po' dispiace perdere naturalmente o sbagliare. 33,300 intanto il suo punteggio. Alle spalle della nostra Sofia Raffaelli. Sì, sicuramente quando si sbaglia è sempre un po' brutto. E attenzione adesso perché c'è Daria Varfolomev che in questi giorni ha dato veramente del filo da torcere a tutti quanti. Lei è la medaglia d'oro del concorso generale e poi medaglia d'oro anche nella finale di specialità alla palla. Assolutamente sì. 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 No, no, no. Eh sì, una bellissima esecuzione, questo devo dire è il mio preferito di Daria, queste clavette, vedo anche Giulia Raskin, la sua allenatrice, commossa. Sì, sì, contenta. Chi avrà disegnato sul body? Sì, ti accettano scommesse. Ti accettano scommesse, sì, molto particolare il disegno sul body di Daria che viene accompagnata dalla nostra mascotte verso la sua insegnante. Cosa ci si dice al kiss and cry di solito, Viola? Si commenta un po' l'esercizio immagino, esatto. Si guardano i punti dove si poteva fare meglio, magari a volte si è anche un po' dispiaciuti perché... Qual è l'esercizio che hai eseguito meglio durante questa Coppa del Mondo? Credo il cerchio. Assolutamente, anche se il mio preferito di Viola è il nastro, lo confesso. Sì, sì, è il mio preferito di Viola. Bellissimo questo pivot, le ve, tantissime rotazioni, anche questo ho eseguito molto bene il full day con la gamba tesa lateralmente, ogni rotazione due decimi di valore, quindi ecco questo pezzo espressivo che abbiamo anche mimato qui dalla postazione commento. Sempre sorridente, ognuno ha il proprio tipo di espressività, non è... Questa è cosa noto di lei? È molto, sembra prendersi davvero il suo tempo, molto lenta nel movimento e pure fa tutto alla fine, riesce a far entrare... Ha un suo stile, yes, dice. Sì, 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 suo stile è molto elegante. 34, infatti, balza in testa alla classifica, applausi anche da parte dell'allenatrice, sì, applaude anche se stessa, perché naturalmente è soddisfatta e è anche bello vedere che le ginnasse siano contenti del proprio progetto. Ho sperato, vero Viola, è bello essere soddisfatte. È bello, sì, molto. E adesso un'altra ginnasta che invece piace molto a Milena Baldassarri, ce l'ha confessato Daria Atamanov da Israele, che ritorna in pedana dopo tanto tempo, quindi l'avevamo vista protagonista nella finale al cerchio e alla palla. Oh, subito una perdita. Oh, subito una perdita. Altre errori, non ricevi dall'altro. Oh, subito una perdita. Bellissimo questo finale, che peccato, tanti errori. Cosa succede, Viola, quando c'è un errore durante una gara? Poi a cosa pensi? Si pensa a cercare di non farne più, anche se non è per niente facile, perché quando ne fai uno, ritornare concentrata è la cosa più difficile. Poi credo che sai che comunque in uno sport come il nostro un errore significa quasi sicuramente aver compromesso il tuo risultato. Bisogna allenare anche, immagino, questa parte qui nel saper andare avanti, nel saper reagire durante un esercizio, anche perché ricordiamo che il tempo degli esercizi individuali è al massimo un minuto e trenta. Due minuti e trenta invece per quanto riguarda la squadra. Dunque non è che possono le ginnaste meditare sul da farsi. Esatto, sì. Intanto i replay di Daria Tamanov, questo è un rischio col tre capovolte, ripreso perfettamente. Quando ci sono tre capovolte o tre rotazioni uguali sotto un lancio, che ho qui intanto la perdita, c'è un bonus in più di due decimi, perché sono molto difficili da fare tre rotazioni sotto il volo. Ecco qui un lancio a cascata di quelli che avevamo visto anche prima, con una ripresa senza l'aiuto delle mani, perché schiaccia la clavetta con l'altra clavetta. E' favoloso questo passaggio finale, davvero originale. Guardate, non c'è un posto libero all'interno del Mediolanum Forum di Astaco, davvero tantissima, tantissima gente. Che bello vedere tanti spettatori così per una gara di ginnastica ritmica, vero Viola? Vero, molto bello e sicuramente il tifo ti dà una carica in più. Eh sì, questo è indubbio. Tra l'altro c'era anche una grande compravendita di biglietti fino all'ultimo secondo, perché ogni posto era prezioso. Bella macchia di colore, tifosi anche di tutto il mondo, perché c'è veramente un'atmosfera dal campionato del mondo, perché è davvero speciale. 28-650, il campionato del mondo, l'hai menzionato tu, si svolgerà a Valencia, in Spagna, dal 25 al 27 agosto prossimo. E sarà il campionato che poi darà la possibilità agli ultimi pass per i giochi olimpici di Parigi, in programma proprio. In questi, nel prossimo anno, inizia insomma a luglio, 20, Parigi 20-24. E' il sogno di ogni atleta, vero Viola, partecipare alle Olimpiadi. Annuisce. Hai visto da casa le precedenti edizioni dei giochi? Sì. Le ho seguite quelle di Tokyo, anche di notte, perché... Esatto. Come no. C'era un bel fuso orario, sì. Ecco intanto la classifica finale. Esatto. A vincere in grande, veramente, forma la ginnasta tedesca. Quindi medaglia d'oro per Daria Varfolomev. Eccola in sovrimpressione. Secondo posizione per Sofia Raffaele. Comunque un'altra medaglia per l'Italia. Medaglia di bronzo per Stigliana Nikolova dalla Bulgaria. E su questa classifica noi ci prendiamo una piccola pausa. E poi noi torniamo subito dopo la pubblicità per raccontare la finale al nastro. Grazie a Viola Stella per essere state con noi. Grazie a voi. Ciao. Rieccoci nuovamente in onda dal Mediolanum Forum di Assago. Ultimissima finale individuale. Marta Pagnini, quella al nastro. Ma abbiamo un ulteriore ospite. Veramente un parterre de roe questa sera qui a Milano 2023. È arrivato a trovarci il presidente di Federgin Nastica, il Cavalier Gerardo Tecchi. Ben trovato, presidente. Ma avete visto che festa? Eh beh, sono tre giorni che li passo qui dentro e tutto il mondo della ginnastica e dello sport sembra che ci sia riversato qui ad Assago. E questo ci fa solo piacere, visto quello che è successo ultimamente. Questa è la conferma che abbiamo un pubblico e degli sportivi che ci sono legati e che credono a noi e nello sport che facciamo. Ma soprattutto un grande tifo, perché il nostro pubblico tifa non solo per le nostre ginnaste, ma veramente per tutte le ginnaste. Infatti questo sono rimasto sorpreso, devo dire, perché è un tifo di competenti. Esattamente. Questo quindi non guardo, è chiaro, Sofia Raffaelli e le farfalle, sono sempre Sofia Raffaelli e le farfalle per tutti in Italia. Ma sto vedendo che quando vengono fuori degli esercizi importanti delle israeliane, delle bulgare, il pubblico risponde adeguatamente. E allora adesso ci gustiamo l'esercizio di Polina Berezzina dalla Spagna. Il pubblico risponde adeguatamente. Il pubblico risponde adeguatamente. Il pubblico risponde adeguatamente. V 강mi 받us PPLI dieiin менее un grande tifo, siaHHH gender e regulations. Alla sett Damage Il pubblico risponde adeguatamente. Visite Grazie a tutti. Qualche imprecisione, anche qualcosa di non eseguito in questo esercizio, ma tutto sommato una bella composizione. Forse è il suo esercizio attrezzo migliore, devo essere sincera. Una Polina Beresina in grande forma in questa World Cup. È bello poi vedere tante nazioni partecipanti, Presidente. Quasi come un campionato del mondo, questa finale di World Cup di Milano. Infatti ci stiamo preparando per il campionato del mondo. Sono fra venti giorni, mi sembra. Però a meno di un mese, sì. A Valencia mi hanno convinto anche ad andare, perché io avevo delle problematiche, ma non posso far mancare l'appoggio della federazione a queste ragazze, che se lo meritano tutto, a queste ragazze. e alle tecniche che fanno tanto, da Maccarani a Giulietta Cantalupi, a tutte, veramente il plauso della federazione. Ha sempre detto che la scuola italiana è una scuola che ha una lunghissima tradizione. E questa è l'ennesima testimonianza. Insomma, le tante medaglie vinte in questa occasione della tappa di Coppa del Mondo. Ieri l'oro delle farfalle, l'oro per il circuito di World Cup vinto da Sofia Raffaelli. Altre medaglie oggi nelle finali di specialità, meglio di così. Ma certamente. Però devo dire che per uno che è non competente, non dico proprio incompetente, ma non competente come me, vedere queste ragazze, vedere per esempio la Raffaelli, dà l'impressione che la ginnastica, la ritmica che fa la Raffaelli, sia diversa, sia di un altro livello. Questo poi lo potete dire voi che siete delle persone... Intanto Polina Berezzina, 30 e 100, ha ragione Presidente. Pensi che prima di lei c'è stata Viola Stella, un'altra delle protagoniste di questa finale. Lei ci ha detto che secondo lei tutto ciò che si fa a Sofia, che è molto complicato, lei è in grado di renderlo semplice agli occhi. È vero? Lei è una campionista super di quelle che ne nascono una ogni tanto. E intanto è la volta di Vittoria Onoprienko, Ucraina la seconda protagonista di questa ultimissima finale al nastro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bella esecuzione di Vittorio Onoprienko. Non semplice questo nastro, anche molto caratteristico, molto espressivo. Vedrete i punteggi del nastro, leggermente più bassi rispetto agli altri attrezzi, proprio perché è un attrezzo molto falloso, quindi le penalità di esecuzione sono solitamente un po' di più. Esatto, Presidente, un'altra presenza quella di Vittorio Onoprienko che da tanti anni calca le pedane italiane, è anche una ginnasta in prestito straniera per una società all'Armonia d'Abruzzo. È bello vedere anche tornare queste ginnaste in Italia. Queste ginnaste stanno bene in Italia e quindi sono contenta di venire, di gareggiare in territorio italiano perché dove andiamo trovano un pubblico caldo, competente. Anche quest'anno il campionato sarà di altissimo livello, di serie A, quindi ci saranno molte di queste ginnaste, quindi questo ci fa assolutamente un grande piacere. Senta, Presidente, prima di congedarla, un messaggio per queste ginnaste che fra un mese, come dice lei, devono affrontare il campionato del mondo, da parte sua. Di non farmi soffrire troppo. Va bene, allora poi glielo riferiremo anche noi. La ringraziamo molto per essere stato con noi e si goda la gara. Grazie mille. Intanto guardiamo questi replay di Victoria, una difficoltà combinata di equilibrio, molto ben eseguita, guardate la sua espressività, molto accentuata in questo esercizio. Il lancio con tre capovolte che costituisce davvero un bellissimo, anche un grande punteggio, un grande livello tecnico. 32,500. È un buonissimo punteggio presso il nastro. Sì, assolutamente sì, anche perché Marta, il nastro è l'attrezzo sicuramente più scenografico, più famoso anche della ginnastica ritmica, ma anche quello più insidioso. Quindi un po' condizionato da una serie anche di fattori esterni, il mondo della ginnastica, l'aria condizionata, l'umidità, l'umidità. Esatto. Attenzione, attenzione. L'ultimo esercizio per Sofia, Raffaele Sofi, sei mitica. Sì, sì, una bella partecipazione da parte del pubblico, più di così non si può creare. E guardate il body di Sofia com'è impreziosito, davvero, molto molto ricco, ma nello stesso tempo altrettanto elegante. E allora gustiamoci quest'ultimo esercizio della nostra campionessa del mondo in carica. Troppo subito un errore. Sì, sì. Un altro errore, purtroppo. Sì, sì. Peccato Sofia, davvero un esercizio di un livello pazzesco. La musica dice Death's Life, questa è la vita, purtroppo questa anche la ginnastica ritmica è veramente un peccato per Sofia. Sì, un peccato perché davvero errori che purtroppo possono capitare, ma che chiaramente Sofia ci ha abituato anche a delle... Lo vedete, il lancio di Peluche. La parte di Milena, tra l'altro, vuol da stare, che è sua compagna di squadra. Sto qui amatissima dal pubblico di casa, ma anche dal pubblico internazionale. Andiamo a vedere magari nei replay quelli che sono stati, purtroppo, gli errori accaduti in questo esercizio. Adesso l'ape arriva in suo soccorso perché sono piovuti veramente un sacco di cartelloni per Sofia. Gentilmente l'ape, ma sforza... Ecco qui il primo errore, un lancio a boomerang, quindi un lancio dove la ginnasta ha la coda in mano e poi richiama la bacchetta a sé, purtroppo ha deviato e non è riuscita a riprenderlo. Qui alcune maestrie, cioè coordinazioni con l'attrezzo. Vediamo qui invece la serie di passi di danza, molto bella, di Sofia nel suo esercizio. Questo è un salto sotto il volo dell'attrezzo, subito seguito. Ecco, vedete qui un altro errore, purtroppo la coda ha toccato i piedi di Sofia e ha tirato giù di conseguenza la bacchetta. 28, 450, purtroppo il punteggio non lascia molto spazio all'immaginazione. Ultimo punteggio di questa classifica provvisoria. Forza Sofici, ci può stare. Assolutamente, assolutamente sì. E adesso dalla Polonia, una ginnasta che non abbiamo commentato finora perché non ha partecipato ad alcuna finale. È riuscita a entrare Emilia Eichel dalla Polonia. Questo è il suo esercizio al nastro. Subito un errore all'inizio. Subito un errore all'inizio. Adesso è il suo esercizio al nastro. Adesso è il suo esercizio di imparazione. Adesso è il suo esercizio al centro. È la sua esercizio interlo. Adesso è il suo esercizio di imparazione. Any, any, are you ok? Any, are you ok? Are you ok? Any? Any, are you ok? Would you tell us that you're ok? Are you sliding down the window or let you shut up up or shut your eyes? He's giving you a purpose He's looking for a lust saying that he's got my car to get So you went into the lab room and you were shut down with your doom Any, are you ok? Any, are you ok? Are you ok? Any? You've been hit by You've been struck by a food's criminal Peccato per l'errore in apertura Stavo pensando davvero, sono tanti i tributi a Michael Jackson Lo stavo pensando anch'io Ma senti Marta, noi abbiamo un sacco di ospiti qui Ma addirittura il vice campione d'Europa alla Sbaria d'Antaglia 2023 Carlo Macchini E sapete qual è questa sinergia tra il mondo della ginnastica ritmica Un ginnasta di artistica Qui in postazione, commento sulla 7 Devo dire la verità, intanto buongiorno a tutti Mi sento quasi un pesce fuor d'acqua senza vedere gli attrezzi Una pedana senza attrezzi mi sembra strano Ma sono piccoli attrezzi questi Piccolini, i piccoli attrezzi, esatto Che cosa ne pensi di questa manifestazione? Hai visto quanta gente che c'è qui? Quanta gente, che tipo, che calore Diciamo che l'Italia sa farsi valere da questo punto di vista Uno spettacolo notevole sia dal punto di vista tecnico Che dal punto di vista del pubblico Questa è una sorta di messaggio nascosto, criptato Per dire che più manifestazioni di questo genere Devono essere organizzate in Italia Perché la ginnastica comunque non è considerata Non deve essere considerata uno sport minore Ma è veramente seguitissima La ritmica ma altrettanto l'artistica Maschile, femminile, il trampolino, l'aerobica Insomma ci sono un sacco di discipline E l'acrobatica Assolutamente Diciamo che la federazione a capo è una sola E poi secondo me ogni disciplina può tirare dentro gente e spettatori 29.600 intanto il punteggio per la ginnasta polacca Cosa pensi tu della ginnastica ritmica? Da ginnasta di artistica? Devo dire la verità, come mi emozionano gli esercizi della ginnastica ritmica Poco altro Soprattutto la squadra, questa sinergia che c'è tra le ragazze È allucinante E devo dire che a volte devo trattenere l'occhio un po' bagnatino Devo dire la verità Che bello Che bello Sì, la ginnastica riesce a emozionare Grazie Carlo Macchini per essere stato con noi Ne continuiamo a commentare la gara Questa volta è la volta ancora di Eccaterina Bedeneva dalla Slovenia Grazie 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 E' davvero il cavallo di battaglia di questa ginnasta Che lo interpreta con grandissima passione Bellissimo il suo esercizio Ecco che saluta il pubblico Sempre anche molto elegante Molto elegante Davvero di grande tecnica anche questa ginnasta Molto precisa nei movimenti Abbiamo detto che la ginnasta è espertissima Porta un vasetto di fuori Comunque Marta Pagnini Non solo straordinaria commentatrice tecnica Ma anche cantante Perché Marta dovete sapere che sa il russo Quindi durante l'esercizio di Eccaterina Bedeneva Cantava sottovoce questa canzone L'aria solida a interrogarmi sui significati delle canzoni Intanto Ecco che cosa dice questa canzone? Non ti dimenticherò mai Perfetto Molto romantico Risco con il nastro di Eccaterina Bedeneva Guardate tre capovolte Quindi bonus ulteriore Per questa difficoltà di attrezzo Queste tutte maestrie Dove le spirali vengono disegnate Vedete durante la rotazione O magari sotto la gamba Ecco qui una difficoltà Vedete di equilibrio Alcuni equilibri si possono eseguire Sulla pianta del piede Altri sull'avampiede Sull'avampiede hanno un valore maggiore Sulla pianta hanno un valore di un decimo sotto E' un punto inferiore 30 tondo il punteggio di Eccaterina Bedeneva Un buon punteggio per la ginnasta Sillovena Per adesso il terzo punteggio Sì Allora il terzo Esattamente Ha un decimo sotto la ginnasta Spagnola Beresina E chiaramente Tutte e due dietro al 32-500 di Vittorio Adesso è pronta a scendere in petana Inquadrata dalle nostre telecamere Boriana Kalein Già protagonista di altre finali Ginnasta Bulgara Ultimo esercizio per tutte le individualiste Questo nastro Grazie a tutti 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 Molto bene A beh stipenda Fai che scelta particolare Sappiamo che ti piace questa canzone L'area infatti Beh è un bel brano assolutamente Poi la cosa più importante E finire poi anche del punteggio E che lei lo sa ben interpretare Molto Molto Infatti sorridente questa ginnasta Ottima interpretazione Perché la ginnastica ritmica è anche un po' interpretazione Marta Esattamente anche lei è una ginnasta che è stata ferma per un periodo a causa di un infortunio Ed è tornata in gran spolvero anche in occasione degli europei Si chiama tilt Davvero difficilissimo combinare i due elementi All'espeta ha il compito di superare il 32 500 E la prima posizione attualmente occupata dall'Ucraina Vittoria Onoprienko Adesso tra qualche istante capiremo se sarà in grado di balzare davanti alla Onoprienko Buonissime queste immagini che stiamo guardando Ecco guardate questi passi di danza molto espressivi Si coglie veramente ogni espressione del volto E questo lancio con tre capovolte Quindi è un bel modo per concludere l'esercizio Sempre con la mano sul cuore Hanno sul cuore Bandiera bulgara presente al palazzetto Tanti tifosi abbiamo detto tante volte ma Sorride anche la sua allenatrice che difficilmente oggi nell'inquadratura ho visto sorridere Insancabile la nostra Ape 31.700 No? Le spalle dell'Aonoprienko Eh sì, non ce la fa passare al primo posto Marta, Marta E' di nuovo la volta di Daria Varfolomev Eh sì, la grande campionessa Ci fa avviare verso la fine di questa finale al nastro La guardiamo in silenzio e stiamo curiosi di vedere se riuscirà Penultima ginnasta Esatto Autore dei sottotitoli e grange Quello squilibrio. Oh, lunghissimo. Recuperato. Che peccato, proprio sul finale una perdita, sull'ultimo rischio, ha davvero recuperato tantissimi lanci non perfetti, recuperate alla perfezione e l'ultimo non ce l'ha fatta, eppure sembrava davvero lì alla sua portata. Una grande ginnasta quella che la vediamo inquadrata, Ilaria, proprio di alto livello. Molto, beh, è la vice campionessa del mondo, Marta. Non scontato, perché vice campionessa del mondo, ma poi è stata ferma per molto a causa del suo infortunio ed è tornata molto, molto competitiva. Assolutamente, l'abbraccio con Giulia Raskina, che vi confesso fu una delle mie ginnaste preferite all'epoca, quindi andatevi a riguardare sui vari siti i suoi esercizi, in particolare quello della palla ai giochi olimpici di Sydney del 2000, veramente, veramente particolare. Aveva questo movimento molto particolare e quindi anche questa grande passione per la ginnastica che poi trasmetta le sue ginnastiche. Ecco qui alcuni replay di Daria Varfolomev, guardate anche la grande espressività nei movimenti. 30 e 500 è comparso sul nostro tablet, esatto. Per un pelo, per un pelo. 30 e 500, il punteggio è comparso sul nostro tablet. Terza posizione provvisoria per Daria Varfolomev. Peccato davvero per quell'errore. Solleva le spalle anche Giulia Raskina. Sì, sì, davvero un vero peccato perché era una sopportata. La punteggia che è stato presentato un colpo per l'esercizio di Yekaterina Bedegni. L'immaginavo, me lo aspettavo. E il punteggio è stato modificato. Attenzione, punteggio modificato da 30 e 300 a 30 e 500, se non sbaglio. 0,20 in più. No, forse questo è il punteggio. 30 e 300 è il punteggio. A 30 e 300, sì. Quarta posizione per Yekaterina Bedeneva. Comunque è un quarto posto, però è stato presentato ricordo. quindi hanno dovuto riguardare l'esercizio. Chiudiamo veramente con una big. Questa ultima finale individuale al nastro è la volta della piccola ma grintosissima Stigliana Nikolova. Bulgaria, guardate il body con questo cuore stampato e impreziosito da tutte le pietre sul cuore. La sera la tua libro nella piccola ma grintosissima Stigliana. La tua storia che si è un mondo, è un mondo, è molto diverso. La tua storia è un mondo, 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 è un mondo. Ah, un errore per Siliano Un altro errore Un altro errore Un altro errore Ha preso, ha preso E lo fa vedere Fa vedere che ha preso la bacchetta Ha fatto bene perché poteva sembrare caduta Sorride anche la sua allenatrice Sono le piccole strategie, no? Per far poi capire Sì, è stato divertente Purtroppo un paio di errori per Siliana In questa sua ultima prestazione Il nastro è sempre più falloso, Ilaria Assolutamente va a salutare la sua fan Che è venuta a trovarla Gliel'aveva promesso Sentivo vociferare prima Durante una pausa È una fan delle ginnaste bulgare E lei è andata a salutarla Ha un cuore sul body Ha un grande cuore anche La giovanissima Siliana Nicolova Bello, veramente un bellissimo momento Ed ecco l'Aupe che offre alla ginnasta Come sempre, sempre qualcosa Piovono messaggi, cartelloni e cose di questo genere Abbiamo appena visto un recuperone da parte di Siliana In occasione di uno dei suoi rischi Questo pivot in panché Guardate sull'avampiede Quindi il tallone è sollevato da terra Il valore quindi aumenta in questo caso Passi espressivi di danza All'interno del suo esercizio Guardate belli questi dettagli Si ravvicinati Ecco questo il lancio a boomerang Dove purtroppo prima Ecco, anche Sofia aveva sbattato proprio il lancio a boomerang E anche lei oggi non è la giornata dei lanci a boomerang Salto e giro in tilt Tipico suo, un bellissimo movimento Comunque sempre sorridente Eccola qui E adesso siamo in attesa di conoscere il punteggio di Siliana Che comunque sorride 29-350 Dunque medaglia d'oro per Vittoria Onoprienko Seguita da Borjana Kalain Bulgaria Terza posizione e medaglia di bronzo Per Daria Varfolomev Che oggi c'è da dire Ha fatto veramente incetta di medaglie Purtroppo la nostra Sofia Raffaele Chiude in ultima posizione Per lei Deve uscire ancora il punteggio di Nicolova 28-450 Sì, non importa Va bene così Forza Sofia Assolutamente Ogni gara è a sé L'importante adesso è Testa e mondiale Ed ecco la classifica La ripeto Vittoria Onoprienko Medaglia d'oro 32-500 31-700 Per Borjana Kalain Medaglia d'argento Terza posizione bronzo Per Daria Varfolomev 30-500 Chiudiamo qui queste finali individuali Noi ci prendiamo una piccola pausa E poi torniamo per l'ultima gara L'ultima finale Quella con l'esercizio misto Tornano protagoniste le squadre A tra poco Rieccoci nuovamente in diretta dal Mediolanum Forum di Assago Edizione della World Cup Milano 2023 Finalissima, veramente questa volta finale del finale Del gran finale Ultime battute Ultime battute Sono quelle dell'esercizio misto In sovrimpressione Tre nastri e due palle Tornano protagoniste le squadre Ovviamente fra queste anche la nostra nazionale Le nostre farfalle Ecco le otto finaliste Brasile, Spagna, Israele, Germania, Cina, Italia, Giappone e Francia È una bellissima gruppo di squadre Che si sfideranno in quest'ultimo esercizio di giornata Ed è bellissimo Ilaria permettimi di raccontarlo qui Sulla 7 Davvero che ormai è la casa della ginnastica La casa della ginnastica E ne approfittiamo per dirvi Che tutti gli esercizi che avete visto questa sera Sono praticamente ripostati in tempo reale Sul sito di la7.it In una sezione dedicata alla ginnastica ritmica In particolare Alla World Cup di Milano 2023 Questo è il jingle che preannuncia l'inizio della prossima finale Alla fine più che mai sempre con voi Tutti iniziano Come dire L'incitazione nei confronti delle squadre Sofia e Milena siete meravigliose Ma hai visto poi come sono disegnati bene? Sì 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 Sono davvero delle opere d'arte Questi piccoli quadretti Molto molto belli E abbiamo visto le immagini Eccole la squadra del Brasile Che si prepara per scendere in pedana Si abbracciano Si si abbracciano È un esercizio molto scenografico Adesso ve lo faccio vedere Questa è la zona del warm up La zona che si trova al di là del backdrop della pedana principale Dove le squadre che stanno per gareggiare si scaldano Infatti vedete c'è un po' di precitazione La nostra camera dedicata proprio a rubare i momenti molto delicati prima dell'entrata in pedano Esattamente Alcune di queste squadre l'hanno già gareggiato prima nella finale ai cinque cerchi Altri invece partecipano solamente a questa finale Perché come si fa a cederare alla finale? Bisogna classificarsi nelle prime otto nel concorso generale Chiaramente classifica per attrezzo Assolutamente sì Vogliamo ricordare Marta Come è finita la finale con i cinque cerchi Un'ennesima medaglia per l'Italia All'argento delle nostre farfalle Sì assolutamente Una bellissima esecuzione Un punteggio davvero stratosferico Per le farfalle che hanno ottenuto la medaglia d'argento Ed ecco partiamo subito Ilaria non c'è tempo da perdere Piastri scaramantici, semi della croce Esatto Ognuno ha il suo Squadra del Brasile Una bellissima squadra Questo esercizio davvero splendido dal punto di vista artistico L'ho apprezzato tanto in occasione delle qualifiche Non vedo l'ora di riguardarlo Ti era piaciuto ieri in effetti Ti era piaciuto commentarlo Allora ce lo gustiamo in silenzio Poi dopo a te il commento tecnico come sempre Marta Pagnini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Wow, troppo un errore Grazie a tutti 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 meraviglioso questo esercizio l'aria peccato oggi qualche errore loro si divertono poi sì sì sono davvero espressive un bel gruppo davvero delle belle una bella squadra con delle belle composizioni quindi complimenti a loro anche se ieri sicuramente una prestazione molto più pulita di oggi Marta ennesima ospite che ospite allora rubami il mestiere e annuncialo che abbiamo in postazione e commento con noi niente un po' di meno di Sofia Raffaeli ciao Sofi ciao Sofi benvenuta come stai com'è andata sei contenta diciamo che non ho fatto il mio meglio non è quello che speravo di fare oggi però è stata un'emozione entrare ogni volta e uscire con tutto questo pubblico vero è quasi chiassuoso in senso buono sì è stato veramente bellissimo senti ma c'era un problema di aria condizionata perché mi hanno visto che tante ginnasta hanno avuto problemi con i nastri non solo tu un problema di umidità piuttosto che oppure è andata così allora sicuramente l'ultimo attrezzo quindi diciamo un po' la stanchezza poi magari sì un po' d'aria però diciamo ci dobbiamo abituare anche a questo perché il Mondiale a Valencia ci sarà sicuramente l'aria condizionata quindi diciamo una prova da affrontare nel migliore dei modi senti che cosa ne pensi di tutta questa gente che ha gremito gli spalti del Mediolanum Forum di Assago? è stato bellissimo e sapevo che ci sarebbero state tante persone ma non pensavo così tante e comunque la gara in Italia è sempre diciamo la mia preferita perché adoro entrare in pedana con tutto questo pubblico tutti gli anni passati a Pesaro adesso qui a Milano poi Milano veramente una grande vetrina 31,300 intanto il punteggio del Brasile che è un po' il nostro punto di riferimento il primo punteggio di questa finale senti i tuoi prossimi sicuramente i mondiali di Valencia e ci saranno tre settimane di allenamento dove probabilmente faremo esatto magari allenamenti a porta aperte però questa diciamo è l'ultima gara importante prima dei mondiali e adesso è la volta della Spagna teniamo ancora con noi Sofia così abbiamo un po' di domande da fare e intanto ci gustiamo l'esercizio della Spagna Spagna che in occasione del concorso generale ha fatto qualche errorino sicuramente questo esercizio meglio di quello con cinque cerchi ma può sicuramente fare meglio vediamo oggi grazie 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 Valencia, Valencia viva! Molto caratteristico questo esercizio, la musica Valencia, Valencia è sicuramente un omaggio alla città che ospiterà i mondiali da poco meno di un mese, sono state molto più pulite rispetto ai cinque cerchi della qualifica e non ancora al loro top secondo me, possono ancora raffinare e ripulire questo esercizio. Senti Sofia, ti piacciono gli esercizi di squadra? Sì, mi piace tutto, la ginnastica sia l'individuale che la squadra. Sì, la mia è una domanda retorica in realtà. Però no, sì sì, mi piacciono anche questi, soprattutto le squadre più forti hanno degli esercizi che ti lasciano a bocca aperta. È una domanda che fanno spessissimo le persone, ma come mai per esempio tu Sofia fai la gara individuale e non fai anche quella di squadra? Spiega come è diverso il lavoro. Perché ovviamente è individuale, vabbè a parte sono quattro attrezzi e sei da sola, mentre la squadra sono cinque ginnaste e diciamo il lavoro è completamente diverso perché hanno solo due esercizi. Inoltre devi lavorare più per andare tutti insieme, i lanci devono essere fatti in modo un più lungo, le traiettorie sono diverse, mentre da sola ovviamente sei tu, quindi devi fare le traiettorie più corte per riuscire ad arrivare meglio. Certo, sono proprio due lavori, due discipline differenti. Senti, a te ti è capitato di partecipare al lavoro di squadra magari in società naturalmente, come ti sei trovata? Da quando sono piccola che faccio sempre sia individuale che squadra, negli ultimi due anni no perché ho avuto tante gare, però diciamo che mi è sempre piaciuto fare squadra, anche se diciamo ha un carattere un po' particolare, quindi in realtà non l'ho mai adatta alla squadra, però mi diverso. Sì, a 200 che cosa significa che hai un carattere particolare? Ora vogliamo sapere, diciamo che appena sbaglio subito mi arrabbio, quindi anche quando sto da io in squadra, mi invece fa toccare. Perché siamo una perfezionista e di questo ci siamo accorti, ma io ho una domanda tecnica da farti, dopo Israele sicuramente perché... Sì, guardiamo la squadra di Israele che oggi ha vinto la medaglia ad oro ai 5 cerchi, vediamo di che cosa sarà capace nell'esercizio misto, quello con due nastri, tre nastri e due palle. Esattamente quella di Israele è una delle squadre più forti in assoluto, abbiamo vista già con il primo esercizio. Questo è il loro ultimo esercizio qui alla World Cup di Milano, uno stile completamente diverso tra i 5 cerchi e invece questo esercizio misto. Grazie a tutti! Ai, è un errore! Grazie a tutti! 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 Hai avuto Sofia quando hai terminato i tuoi esercizi esci e vedi questa gente, tutte le tue piccole e grandi fan che lanciano peluche, cartelloni, hai avuto modo di leggere qualche messaggio, qualche bigliettino? Sì, Rattaglieri, alcuni sì, sono tutte delle piccole cinnaste che mi ammirano e sognano di diventare come me, mi fa un'impressione molto strana perché comunque quando ero piccola magari vedevo io dagli spalti che non so magari Linoio, Laverine erano in Coppa del Mondo a Pesaro E tu facevi gli stacchetti magari Esatto, e quindi diciamo è tutto, c'è un ricordo che però diventa un'emozione E sentite queste musiche che ci sono in sottofondo, tra un esercizio e l'altro ci sono delle piccolissime giovani ginnaste che si esibiscono in micro esercizi chiamati stacchetti da 30 secondi per riempire un po' l'attesa tra un esercizio e l'altro E chissà se qualche piccola ginnasta che oggi è stata protagonista di questi stacchetti un domani sarà una nuova Sofia Raffaelli, noi gliela auguriamo, vero? Ci lo auguriamo anche per la nostra ginnastica Che cosa ti aspetti dai prossimi mondiali, Sofia? Sofia si è già giudicata un posto per i giochi olimpici di Parigi 2024, è vero che non è un posto nominale, intanto 30 e 100 il punteggio della Germania Però insomma sarà il tuo obiettivo certamente, i giochi olimpici? Sì, quello è l'obiettivo principale, poi ovviamente il mondiale è sempre un mondiale quindi bisogna andarci con una mentalità aperta e andare lì solamente per fare il massimo Poi sold out a Valencia, c'è un pubblico in Spagna calorosissimo, un po' come qui in Italia Esatto, quindi sarà anche lì un'emozione diciamo unica e infatti non vediamo l'ora, c'è io che mi nana di partire e poi ovviamente io mi potrò al mondiale cercare di fare tutto quello che ho nell'esercizio e di dare il massimo E poi un po' di vacanza? Sì, penso che sì È normale, la China E poi un po' di vacanza? E poi un po' di vacanza? Ah, un errore Sì, sì 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 Sì Sì, sì Sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì 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 Sì, sì Sì Sì, sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.